Adesso vi proponiamo un test che potete fare anche a casa. Noi abbiamo reperito poche cose che appartengono ad alcune famiglie aromatiche che servono per allenarci a livello olfattivo. Come dire, c'è una tecnica che dovete seguire, questo è molto importante. Annusate, prendiamo per esempio la banana, l'odore del fruttato, per non più di due, massimo tre secondi e cercate di individuare l'odore e allo stesso tempo di associare il nome, l'esperienza, l'emozione. Per esempio, con l'odore di banana io ritorno alle caramelle alla banana che mia nonna mi regalava da piccolina, quindi vado a legare l'emozione. Intanto, che sto parlando, è passato dell'altro tempo. Tra una sniffata e l'altra devono passare almeno 40-45 secondi.